Ben a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo qui tornati per parlare di calciomercato. Prima che vi inizi a parlare della notizia del giorno, invito come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto. Cosa molto importante, lasciate tantissimi like qua sotto qualora questo video dovesse piacervi e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa notizia. Roberto Piccoli sarà un nuovo giocatore del Lecce, l'attaccante ormai exempli, arriva in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dell'Atalanta. Come sempre in questo video vi andrò a dire la mia opinione personale, vi andrò a dire i dettagli della trattativa e vi andrò a dire anche un pensiero su un'altra operazione, questa volta in uscita chiusa in serata. Vi andrò a dare come sempre anche delle statistiche, cosa a me molto fedele e che soprattutto piace dare nei video di calciomercato. Questa è l'agenda delle statistiche. Detto questo, Roberto Piccoli nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze totali in cui in 8 partite è stato impiegato, è ovviamente una punta centrale, ha effettuato 8 tiri in porta, su un totale di 13 e ha segnato 2 gol. Ha una media di 6 passaggi per ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 65%. Non ha effettuato assist e soprattutto, cosa molto importante da tenere in mente, non ha preso né cartellini gialli né cartellini rossi. Cosa dire ragazzi, Roberto Piccoli è un giocatore che secondo me a Lecce può rilanciarsi dopo delle stagioni così un po' difficili, con la maglia della Verona, con la maglia dell'Empoli. Nella scorsa stagione era stato preso in prestito per 18 mesi dalla squadra Toscana, in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto e contro riscatto a favore sempre dell'Atalanta. Diritto di riscatto fissato a 15 milioni, di contro riscatto fissato a 18 milioni. In questo caso il Lecce si sostituirà all'Empoli, quindi si accollerà il diritto di riscatto e il diritto di contro riscatto. Cosa che a Lecce è già anche così conosciuta per le precedenti operazioni fatte con Colombo e Falcone. Detto questo ragazzi, Roberto Piccoli secondo me a Lecce può fare bene. Può fare bene, può rilanciarsi dopo, come vi ho già detto, delle stagioni difficili, con la maglia del Verona, con la maglia dell'Atalanta e con la maglia dell'Empoli. Verrà a fare il secondo a Christovic, il terzo sarà a Burnete. E io ragazzi vi devo dire che secondo me non è da escludere nelle ultime ore calde di calcio mercato una partenza di Burnete in prestito in qualche club di Serie B barra Serie C. Magari per andare a giocare con continuità, visto che a Lecce fare il terzo forse non lì darà molto spazio. Detto questo, vorrei fare anche un pensiero su un'altra trattativa chiusa in serata, questa volta in uscita. Ma di cui vi andrò a parlare in maniera più approfondita in un video accurato. Iosef Malè sarà un nuovo giocatore dell'Empoli, sono due trattative non collegate fra di loro e nelle ultime ore il Lecce potrebbe rimpiazzare il calciatore marocchino. Cosa volevo dirvi su Iosef Malè? A me dispiace che lui stia andando via. Gli dispiace e con questo non voglio criticare, né la società, né quanto a Leo Corvino, né il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Il mio parere è personale. A me dispiace perché nella scorsa stagione è stato preso a gennaio, in una condizione fisica non ottimale. A un certo punto è recuperato, non ha fatto vedere tutte le sue qualità, tutte le sue doti. Nelle ultime partite sembrava essersi ritrovato e ha finito la stagione con un assist servito a Remiouden nella partita contro il Bologna. Era un giocatore che a inizio mercato non sembrava in uscita, ma poi con l'arrivo di Tavaersa e con gli ulteriori innessi che sono stati fatti in quella zona del campo e è sembrato che non rientri più nelle rotazioni di Tavaersa, non rientri più nel progetto Lecce. Mi dispiace perché aveva svolto con il Lecce tutto il ritiro precampionato, aveva rifiutato anche gli ulteriori giorni liberi che la società aveva dato ai giocatori che erano stati impegnati con le rispettive nazionali durante il corso dell'estate. Quindi questo faceva vedere anche la sua fame, la sua voglia di rilanciarsi. E soprattutto, ragazzi, aveva ottime qualità tecniche, aveva ottime doti, però spero per lui che questa stagione sia per lui quella del rilancio. Secondo me, ragazzi, poi magari questa notizia sarà vera, sarà anche falsa, però questa mia supposizione a fine stagione potrà rivelarsi vera o falsa. Secondo me questa stagione farà veramente bene, sarà la stagione del riscatto per lui. Va a Empoli e ritrova un allenatore, come Zanetti, che ha già avuto, ha avuto a Venezia, in quella che è stata forse una delle sue migliori stagioni e che tra l'altro terminò con la vittoria del campionato. Lui fu protagonista assoluto, mi ricordo benissimo. Quindi spero per lui veramente di ritrovarsi. E vi auguro un in bocca al lupo e auguro un benvenuto invece a Roberto Piccoli. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Le ultime ore di calcio mercato e le ultime 72 ore saranno calde e non sono da escludere eventuali sorprese in casa Lecce, sia in entrata sia in uscita. In uscita c'è di Francesco, quasi fatta col Palermo, ma di questo ve ne andrò a parlare in un altro video. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Forza Lecce sempre! Ciao ragazzi!